Spesso, soprattutto per il libro precedente, mi hanno chiesto che cos'è il male, da dove viene il male. Allora, io sono portato a pensare che l'essere umano sia, cioè, è così, è molto complesso, non credo esista il male assoluto. Se c'è qualcosa che si avvicina all'idea di male, quello è Angelo Izzo. Quello è senz'altro Angelo Izzo, perché come lui agì nei confronti di... Agirono tutti in maniera feroce contro Donatella con la Santi e Rosaria Lopez, ma l'atteggiamento che lui ebbe poi in tribunale, ridendo, arrogante, spavaldo, e poi il fatto che lui poi esce, uccide ancora, e dice poi ai giudici, quando viene riarrestato e ritorna ai giudici, ma a volte, e c'è il video su YouTube e io lo faccio anche vedere durante le... Lui dice, ma a volte ti capita di dover ammazzare qualcuno, come se fosse una cosa che capita. Buongiorno, io direi che limito al minimo l'introduzione, perché diciamo che forse non volete sentire tanto la mia voce, ma siete qui per sentire la sua, quindi chiamo a raggiungermi sul palco Stefano Nazzi. Ciao Stefano, prego, ci mettiamo qua sui divanetti, benvenuto, grazie di essere qui con noi. Allora, è uscito il tuo libro, si chiama Canti di guerra, noi abbiamo qui la copertina, è uscito per Strade Blu Mondadori, tra l'altro dopo il panel farai anche un firma copie del libro, se qualcuno di voi ha una copia e vuole farla firmare. Nel libro racconti, si chiama appunto Canti di guerra, racconti una storia, ci dicevamo prima, una storiona, ecco. Sì, è la storia di tre banditi, tre criminali, che sono stati protagonisti fra la fine degli anni 70, la seconda metà degli anni 70, i primi 80, qui a Milano, ma poi in tutto il nord Italia, in tutta Italia, sono Renato Vallanzasca, Francis Duratello e Angelo Epaminonda. E le loro vite sono state intrecciate, incrociate, sempre in qualche modo connesse, perché si sono odiati, si sono fatti la guerra, si sono sparati addosso, poi sono diventati amici, hanno fatto alleanze, hanno in qualche modo avuto rapporti con le stesse donne e il loro destino poi è stato diverso, ma sempre in qualche modo drammatico. Quindi è la loro storia, ma è anche la storia di com'era Milano, com'era l'Italia allora, molto, molto diversa da quella di oggi. Ecco, infatti, leggendo il libro, iniziando a leggere il libro, si riconoscono vie, piazze, quartieri di Milano, dove ovviamente ancora oggi camminiamo, passiamo, e tu spieghi proprio che per ognuno dei protagonisti Milano è qualcosa di diverso, cioè per Vallanzasca è la città più bella del mondo, perché alla fine riesce a fare tutto quello che vuole. Vallanzasca è, vabbè, è il milanese, è proprio il milanese dei tre, quindi nato a Milano, zona Lambrate, adora Milano, adora quella zona. Infatti lui poi torna sempre qui, anche quando scappa, riesce a evadere dalle carceri, ne ha fatte parecchie di evasioni. Poi alla fine il suo centro del mondo è questo. Turatello è nato in Veneto, ad Asiago, ma si è trasferito con la madre quando era bambino qui a Milano, anche lui nel quartiere Lambrate. Lui è meno legato a Milano, ma è molto legato al potere e ai soldi che Milano rappresenta. Lui, tra l'altro, vive sempre da solo con la madre, fino a che non se ne va di casa, perché non ha mai saputo realmente chi era il padre. C'erano delle leggende che forse sono anche vere, per cui il suo padre naturale fosse un mafioso italo-americano piuttosto famoso, Frank Tredita Coppola, che aveva solo tre dita perché due le aveva lasciate chiuse in uno sportello di una cassaforte durante una rapina. E poi c'è il terzo, Angelo Praminonda, che invece arriva dalla Sicilia con la famiglia, va a vivere a Cesano Maderno, che lui odia, un posto che odia, però scopre Milano, scopre i locali di Milano e impazzisce. Cioè lui qui insegue il sogno di diventare qualcuno e di diventare qualcuno nel mondo criminale. Quindi proprio se si diventa, Milano diventa il suo luogo anche per lui, conosce tutti i locali, balla in continuazione, poi diventa anche un punto di riferimento per il traffico di droga. Lui tra l'altro nei locali a Milano, oltre a conoscere un sacco di gente, conosce la cocaina, inizia a farsi cocaina e si farà poi per tutta la vita di cocaina, che sarà la sua passione, diciamo, la sua vera passione. Ecco, che città era Milano in quegli anni? Per chi non l'ha vissuta? Anche pensando a quello che dicono adesso, sai ci sono molti... Il dibattito Milano non è più quella di una volta, la Milano come era bella, come era sicura Milano. Milano non è più quella di una volta, perché? Perché a Milano in quegli anni c'era una media di 150 omicidi all'anno. L'anno scorso sono stati 19. Cioè, quando noi sentiamo parlare di città insicura, di città, addirittura, leggo dei titoli, città fuori controllo, bisogna pensare a come era prima. Cioè, i reati gravi a Milano, ma come d'altronde in tutta Italia, sono diminuiti esponenzialmente da 30 anni a questa parte. Rapine in banca non ci sono più, non esistono più. Pensate che a Milano nel 1977 hanno culmine, ci furono una cinquantina di sequesti di persona. È un reato che non esiste più, anche quello. C'erano in tutta Italia 600 sequesti di persona, ci furono in dieci anni. 600 sequesti di persona con 60 persone mai più tornate a casa. È vero che oggi c'è una percezione di insicurezza dovuta essenzialmente alla microcriminalità, che è un fenomeno piuttosto endemico in tutte le città, in tutte le metropoli. Amplificato poi da propagande politiche e è amplificato dai social. Pensiamo alla storia, chi la conosce, di Rovazzi, che pubblica il video promozionale in cui finge che qualcuno gli rubi un telefonino. Su tutti i siti di informazione viene lanciata questa notizia col video. E nessuno, adesso è una critica al mio mondo, che è quella del giornalismo, che si sia premurato di chiedere una verifica se era vero o non era vero. Era semplicemente un video promozionale. Eppure ancora i titoli Milano città fuori controllo, Milano insicura. Era una città, quella che io racconto in Canti di guerra, dove davvero la gente la sera non usciva di casa, in cui si diceva la gente per bene sta a casa. Dove c'era una bisca in ogni quartiere. La bisca più famosa di Milano era in un palazzo davanti alla RAI di Corso Sempione. C'era sul citofono scritto Amici della pittura. Ed era a sesto piano a casa di una ex contessa che l'affittava Francesco Duratello in cambio di soldi e di champagne. Ma c'erano bische ovunque, bische all'aperto, all'arena verso mezzanotte arrivavano le auto, accendevano i fari, facevano un cerchio con i fari e si giocava a dadi. Piazza Vetra, oggi ci giocano i bambini, oggi ci sono le famiglie. Piazza Vetra era allora il centro dispaccio più grosso, credo, del nord Italia. Era il luogo dell'eroina a Milano insieme a Viodazio, quartiere Giambellino. quindi era una Milano veramente molto diversa e questa cosa Milano non è più sicura e se si vanno a vedere i dati che i dati sono quelli che contano alla fine ti dice un'altra storia. Poi è vero che se la gente percepisce insicurezza essa stessa diventa insicurezza, cioè quindi devi cercare di farli sentire sicuri perché se si percepiscono insicuri perché c'è un problema in effetti di microcriminalità diffusa. Però per quanto riguarda le statistiche dei reati è un altro mondo, è un altro mondo. Senti, che personaggio è Renato Vallanzasca? C'è un capitolo nel libro Emanuela che parla del sequestro di Emanuela Trapani e in cui effettivamente si vede un po' molto l'abbivalenza del personaggio che ha creato hai contribuito poi a crearne anche un po' il mito positivo nonostante tutto. Chi è lui? Che personaggio è? Allora, è un personaggio essenzialmente narcisista, cioè il mito l'ha creato lui stesso perché ha sempre voluto apparire, cioè lui evadeva e cosa faceva la prima cosa? Andava, cercava giornalisti per dare interviste. Quando scappò l'ultima volta nel 1986 da un traghetto che lo stava portando in Sardegna al carcere di Badue Carros e fu un'evasione famosa perché allora nei traghetti allora forse ancora adesso c'è un reparto per i detenuti che vengono spostati sull'isola in Sardegna e quindi vengono tradotti in cabine apposite c'è una cabina più grande e una cabina più piccola i carabinieri si sbagliarono una cabina aveva l'oblò e una cabina non aveva l'oblò dissero e no noi vogliamo la cabina più grande e presero quella senza oblò e misero Vallanzasca che non ci poteva credere a quello che stavano facendo nella cabina con l'oblò lui dopo un po' le svitò le farfalline molto semplici di questo oblò si infilò andò sul ponte scese tranquillamente dal ponte se ne andò poi camminò cosa fece quando arrivò a Milano lui aveva conosciuto durante il processo un giornalista tra l'altro bravissimo di Radio Popolare Umberto Gai e la prima cosa che fece arrivata a Milano si tinse i capelli di rosso quindi doveva essere anche orribile a veder e andò a Radio Popolare entrò e disse cercavo Umberto chiamarono Umberto Gai che arrivò lì e disse ma sei impazzito dice io te l'avevo promessa e andò in onda poi questa intervista storica lui era in quel momento il più ricercato d'Italia ed era a Radio Popolare a dare un'intervista poi Umberto Gai e l'altro giornalista Fabio Poletti furono convocati in procura poi lui fu arrestato qualche giorno dopo in Veneto mentre cercava ed era in Veneto perché perché anche lì c'era una ragazza che gli aveva scritto decine di lettere perché lui riceveva centinaia di lettere in carcere di ragazze innamorate lui questa cosa di piacere alla gente cioè lui era un criminale perché questo non va scordato lui ha ucciso delle persone e però voleva piacere ha sempre avuto quando rapì Emanuela Trapani il suo rapimento più sequestro di persona più famoso che poi divenne quasi un romanzo rosa perché nacque si dice una storia d'amore lui la portarono dove la tenevano in custodia tutti avevano i passamontagna tranne lui e lui disse io sono Renato Vallanzasca e lei rispose mbe cioè nel senso dice non sapeva chi fosse e lui l'ha prese malissimo allora tirò fuori tutti i giornali con i titoli che parlavano di lui e glieli fece vedere ed è stato così sempre tutta la vita adesso Vallanzasca è ancora nel carcere di Bollata è l'unico sopravvissuto di questa storia ma uno dei pochi sopravvissuti di quel mondo in assoluto perché o sono morti per strada o sono morti in carcere o ammazzati o morti di eroina di alcol e lui ha una malattia neurodegenerativa non è più molto presente a se stesso e anche quella è una fine tragica così come è stata tragica ma quasi scontata poi la fine di Francis Duratello senti Stefano tu hai hai narrato racconti storie in molti modi sei un giornalista c'è il podcast i libri poi a un certo punto hai sei andato nei teatri a raccontare con Indagini Live che ha avuto un successo pazzesco tra l'altro mi hai detto che farai ancora delle date a ottobre sì sono tre date a Milano due a Roma e una a Napoli dall'uno al 20 ottobre più o meno ecco tu dal vivo con il pubblico in teatro hai scelto di raccontare la storia del massacro del Circeo perché hai scelto proprio questa storia tra tutte quelle che potevi raccontare allora per due motivi essenzialmente il primo perché rappresenta la storia una delle storie di violenza di ferocia di sopraffazione più importanti della nostra storia cioè che ha segnato la nostra storia quasi simbolica perché certe cose in qualche forma le ritrovo ancora oggi per esempio un avvocato che ha il processo avvocato dei difensori dei tre criminali che avevano sequestrato violentato e poi ucciso sequestrato e violentato per 30 ore due ragazze uccisa una e pensavano di aver ucciso anche l'altra che invece si era finta morta l'avvocato disse a un certo punto se le ragazze fossero state a casa loro se fossero non fossero uscite e questa cosa questa della colpevolizzazione della vittima ancora oggi in forme più subdole meno meno evidenti meno volgari però si trova ancora oggi e poi perché mi è interessato moltissimo che poi è poi il cuore di quello che racconto quello che è successo dopo c'è una storia incredibile di fughe facilissime da carcere di protezioni di uno dei tre che riesce a uscire tranquillamente da carcere di San Gimignano per buttare la spazzatura e se ne va e lo arrestano in Argentina in Argentina lo ricoverano in ospedale e anche da lì esce dal portone e se ne va e lo ritrovano ancora otto anni dopo a Panama che fa l'allevatore di polli un altro che non viene neanche arrestato Andrea Ghira perché se ne va subito la mattina dopo aver ucciso Rosaria Lopez viene probabilmente avvertito scappa e lo ritrovano molti ma molti anni dopo già morto nella morto nella legione straniera spagnola cioè lui era stato protetto anche dopo morto nel senso che si seppe della sua morte solo dieci anni dopo ed è impensabile pensare impensabile credere che non fosse possibile trovarlo perché non è non è così non è logico era in un'istituzione spagnola c'è la legione straniera nell'enclave spagnola in Marocco a Meliglia e lì ha vissuto la sua vita il terzo Angelo Izzo che vabbè scappa anche lui lo riprendono tenta di riscappare poi inizia a scrivere alle procure di Mezzitalia dicendo di sapere tutto di qualsiasi strage di qualsiasi cosa e le procure spesso lo ascoltano dice un sacco di balle butta lì qualche verità poi dopo trent'anni accede secondo i benefici di legge normali cioè quelli stabiliti dal nostro codice dalla nostra costituzione esce per il lavoro esterno e uccide di nuovo uccide due donne e adesso è ancora un nuovo ergastolo nel carcere di di Velletri continua a scrivere le alle procure continua a scrivere libri che vorrei dire fortunatamente nessuno pubblica ed è lì e Angelo Izzo è allora io spesso soprattutto per il libro precedente mi ha chiesto che cos'è il male da dove viene il male allora io sono portato a pensare che l'essere umano sia cioè è così è molto complesso non credo esista il male assoluto se c'è qualcosa che si avvicina all'idea di male quello è Angelo Izzo quello è senz'altro Angelo Izzo perché come lui agì nei confronti di agirono tutti in maniera feroce contro Donatella con la Santi e Rosaria Lopez ma l'atteggiamento che lui ebbe poi in tribunale ridendo arrogante spavaldo e poi il fatto che lui poi esce uccide ancora e dice poi ai giudici quando viene riarrestato e ritorna ai giudici ma a volte e c'è c'è il video su Youtube e io lo faccio anche vedere durante le lui dice ma a volte ti capita di dover ammazzare qualcuno come se fosse una cosa che che capita senti adesso appunto dopo l'esperienza dei teatri podcast libri e giornalismo c'è qualcosa che ti piacerebbe fare che non hai ancora fatto un modo di raccontare che ancora non hai sperimentato non saprei mi posso mettere in un angolo in un parco e no non saprei cos'altro ci possa essere a questo punto no c'è no direi che tra l'altro sia scrivere libri che vabbè fare i podcast ovviamente mi piace tantissimo anche l'esperienza a teatro mi è piaciuta tantissimo perché noi siamo credo siamo in qualche modo riusciti a portare un podcast a teatro cioè la struttura è quella del podcast ovviamente con una scenografia con cose che aiutano però l'essenza è quella del racconto del podcast però è un podcast in cui sei in mezzo alle persone quindi si crea proprio una connessione uno scambio ed è veramente è un'esperienza veramente bella ecco il tema del Warnex Festa di Milano di quest'anno è l'essenziale quindi ti chiederei in qualsiasi modo tu racconti che cos'è essenziale per te nel racconto quando prepari una storia allora essenziale come il mio approccio è l'ordine cioè cercare proprio di mettere in ordine le cose mettere in ordine i fatti e cercare con l'ordine di raccontarle nella maniera più semplice chiara possibile senza banalizzarle però quello è essenziale cioè un ordine di racconto che poi deve essere prima nella mia testa se no diventa veramente un casino quindi quello che è essenziale poi le cose che mi impongo io quindi il rispetto la chiarezza il non prendere derive diciamo da tipo tv del dolore te la chiamano così ecco quello è però l'ordine e la semplicità sono l'essenziale per me grazie Stefano grazie a voi Stefano Nazzi grazie grazie grazie